Musica Ritorna l'appuntamento con tra le righe consigli di lettura dalla libreria Padre Pio a San Giovanni Rotondo a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Una nuova stagione, nuovi libri da segnalarvi ma andiamo anche a riprendere qualche vecchia pubblicazione dagli scaffali della nostra libreria partendo come facciamo di consueto con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina Padre Pio e Padre Eusebio, briciole di storia. Padre Eusebio è stato accanto al Santo di Pietrelcina a tanti anni in questo libro racchiude tutti i suoi ricordi, aneddoti, storie di vita vissuta accanto al frate con le stimmate. Pagina 235, leggiamo quello che racconta Padre Eusebio. Il padre aveva contemplato con i suoi occhi chissà quante volte la Madonna eppure sulla terra era particolarmente attaccato all'immagine della Madonna delle Grazie che dominava dall'alto sopra l'altare maggiore della chiesa piccola, la chiesa nella quale Padre Pio aveva celebrato per oltre 50 anni. Lì continuava a confessare sulla balaustra del coro, si poggiava a lungo per contemplare il quadro, a supplicare la mamma. Lì recitava l'Angelus. Ogni anno, ai primi di settembre, quel quadro veniva portato nella chiesa grande per la novena in suo onore e sistemato accanto alla balaustra. Dai matronei, gli occhi del padre passavano dal tabernacolo dove c'era Gesù, all'immagine della mamma, e si sentiva in paradiso. Un giorno, racconta Padre Eusebio, vado dal padre in un'ora fuori programma perché dovevo chiedergli qualcosa e trovo il padre che piangeva con le lacrime agli occhi. Mi preoccupo e mi affretto a chiedergli che ha, mentre gli poggio la mano sulla spalla e lui «Non vedi che stanno portando via la Madonna?» Non nascondo che restai un poco meravigliato. Sembrava un bambino che piange perché la mamma si allontana. Provai a balbettare solo qualche parola mentre continuavo a tenerlo abbracciato sulle spalle. Coraggio, padre, solo per qualche giorno. La portano a San Giovanni per la festa del paese e poi la riportano subito da noi. Il padre questo lo sapeva meglio di me. Era a San Giovanni Rotondo da una vita, ma quella partenza era come una separazione fisica dalla Madonna. Ma ci chiediamo, la devozione dei santi è come quella di ciascuno di noi? Assolutamente no. La devozione del padre verso la Madonna era fatta di continua preghiera, di sospiri, di atti d'amore, anche a voce alta, e io ne sono testimone. E poi una cosa, non dobbiamo mica credere che la Madonna la vedesse in continuazione. Questo lo fa ora in paradiso. Allora anche lui si consolava con quella Madonna delle grazie, che chissà quante volte aveva contemplato, aveva supplicato per sé e per gli altri. Quella Madonna che l'accolse quando si recò a San Giovanni Rotondo nel 1916. Lei gli mise a disposizione una chiesetta e lui ne ha fatto un santuario conosciuto in tutto il mondo. L'umanità di padre Pio splendeva anche in queste piccole cose, lo faceva sentire più vicino a noi, quasi uno di noi. La differenza era solo nell'ardore che riempiva il suo cuore e nel freddo gelito che riempie il nostro, scrive padre Eusebio Notte in questo libro. Briciole di storia, briciole di racconti, di ricordi che padre Eusebio ha serbato per tanti anni nel suo cuore e che quindi poi ha voluto raccogliere in questo libro, intitolato semplicemente Padre Pio e padre Eusebio, in questa bellissima foto che vediamo un sorriso tra i due, un giovane padre Eusebio, un po' più anziano, padre Pio da Pietrelcina. Con questo primo libro apriamo questa nuova stagione di Tra le righe. Padre Pio e padre Eusebio a firma di padre Eusebio Notte. Il segreto di una vita, la vita è quella di Natuzza Evolo, in questo libro edito da Ancora Editrice, a firma di Renzo Allegri, giornalista, scrittore, critico musicale. Racconta, o meglio questo libro raggruppa testimonianze inedite ottenute intervistando la stessa Natuzza e le persone che la conobbero sin da bambina. Testimonianze riproposte in questo libro che davvero costituisce un documento originale e prezioso, perché parliamo della mistica stigmatizzata più famosa del Novecento, una mistica tutta italiana, nata a Paravati, una frazione della cittadina calabrese di Mileto e morta nel suo paesino il primo novembre del 2009. Natuzza Evolo è stata una donna dalla vita apparentemente normale, quindi madre di cinque figli, analfabeta, è stata però una guida e maestra di vita per le migliaia di persone che accorrevano a lei dall'Italia e dall'estero per ricevere conforto, aiuto e ascolto. Pagina 137, in questo capitolo si racconta la storia di Francesca, perché tra le pagine del libro sono tante le guarigioni prodigiose attribuite alla preghiera di Natuzza nel corso della sua vita, quindi tra le tante guarigioni prodigiose c'è questa di Francesca. Francesca Sergi, avvocato di Reggio Calabria, una guarigione conosciuta ampiamente documentata, un evento che si è verificato nel gennaio del 2000 sotto il controllo dei medici in ospedali di altissimo livello. La malattia era gravissima, tumore al seno con metastasi diffuse anche al cervello. La diagnosi, eseguita e ripetuta nei migliori laboratori clinici, era assolutamente certa. Gli specialisti, chiamati a valutare la situazione, a mettere in atto i possibili tentativi per strappare l'ammalata al suo destino in fausto, i più celebri specialisti. Alla fine, dopo un calvario durato due mesi, la guarigione si è verificata all'improvviso in sala operatoria, in un centro oncologico di Parigi, dove i chirurghi constatarono stupefatti che del tumore non c'era più alcuna traccia. Francesca Sergi non ha più avuto alcun disturbo. Donna forte, con una personalità spiccata e gelosa della propria privacy. Non ama parlare della sua dolorosa avventura e solo per amore di Natuzza ha accettato di raccontare nei dettagli la sua storia, corredandola con un voluminoso dossier medico che conserva. Racconta Sergi a lei riconobbi Francesca nel 1997, quando era in piena salute, dinamica e brillante giovane donne in carriera. Nel maggio di quell'anno ero stato chiamato a Paravati a presentare una rivista dal titolo Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, nata con lo scopo di diffondere notizie legate a Natuzza e alla sua opera. Quell'invito mi sorprese, scrive Renzo Allegri, anche se dopo il 1977 mi ero interessato alcune volte a Natuzza. Avevo pubblicato articoli su di lei, avevo inserito la sua storia in un mio libro, ma non avevo ottenuto alcun contatto diretto. E qui comincia un intero capitolo, racconta appunto la storia di Francesca, come ha specificato lo stesso Renzo Allegri, una donna gelosa della propria privacy e che non ha mai voluto raccontare questa dolorosa storia, ma vi consiglio davvero di leggerla, perché sono una decina di pagine in cui viene appunto raccontata questa prodigiosa guarigione, come tante altre che vengono riproposte in questo libro, ma non solo, perché davvero emerge la spiccata spiritualità di Natuzza Evolo, Il segreto di una vita, ancora edizioni. Questo libro è firmato da Renzo Allegri. E a proposito di santità, siamo partiti con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina per poi passare alla spiritualità di una grande mistica italiana Natuzza Evolo, vi segnalo questo libro di Fra Benigno, che è un frate francescano, sacerdote ed esorcista dal 2000, in cui racconta, attraverso anche, spiegando alcuni passi del Vangelo, un percorso ecco, diciamo, di vita e di fede, che ha come protagonista la felicità, ma non la felicità quell'effimera, la felicità quella vera per sempre. La via per trovarla. Il libro è firmato da Fra Benigno, edizioni Amen. Vi leggo solo questo passaggio in cui Fra Benigno, in un certo senso, identifica i santi, che dice, non sono solo quelli canonizzati, il nostro è un secolo di santi in giacche, cravate e calzoni, in gonna, camicette e borsa, in tuta da lavoro, in veste talare o in abito religioso. Santo è chi, attraverso la fede e il battesimo, è stato giustificato dalla grazia dello Spirito Santo e vive in amicizia con Dio, anche se ballerina o cantante. Santo è chi compie con amore la sua vocazione di prete, di religioso, di mamma, di papà, di impiegato, di casalinga. Essere santi significa vivere la vita nuova con tutte le sue esigenze. Ma di questo poi Fra Benigno ne parla nelle pagine che seguono questo stralcio dedicato alla santità che ho voluto condividere con voi. Vi ricordo il titolo del libro, Amen edizioni, la felicità, la via per trovarla, di Fra Benigno. E concludiamo con un libro che magari avremo modo di riprendere anche nelle prossime puntate per leggervi una storia riportata tra le pagine. Vorrei appunto solo segnalarvi il titolo, Le Perle della Fede in tante piccole storie, l'autore è Bruno Ferrero, il Sicomoro edizioni, tante storie per comprendere il tesoro di fede contenuto nella preghiera del Padre Nostro, nei Dieci Comandamenti e nella preghiera del Credo e delle Beatitudini. La cosa bella di questo libro è che ogni capitolo si chiude con delle sezioni di sintesi, preghiera e riflessioni per precisare e attualizzare nel quotidiano gli insegnamenti del Vangelo. E poi appunto un grande autore di queste storie è Bruno Ferrero che da anni si occupa di catechesi e di educazione. Vi ricordo il titolo del libro, Le Perle della Fede in tante piccole storie, Bruno Ferrero, il Sicomoro edizioni. Con questa segnalazione vi ringraziamo per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.